Siamo da qui e benvenuti alla nostra passeggiata del lunedì. Iniziamo con le vostre domande. Le MDR, le High Movement Decentitization and Reprocessing, funziona davvero per i traumi? Assolutamente sì ragazzi, è la terapia d'elezione per i traumi. Talmente potente da essere ormai riconosciuta anche dalla OMS. Ovunque accada un trauma piccolo oppure gigantesco come, non so, il crollo, se è caduto dal ponte di Genova durante lo scorso estate, che sia piccolo o grande, le MDR è una delle tecniche più potenti. È chiaro che non funziona con tutti al 100%, ma funziona molto di più di tutte le altre tecniche che abbiamo inventato precedentemente. e posso assicurarvi che funziona davvero, davvero benissimo. Fidatevi solo di persone che sono state formate. Se andate sul sito MDR Italia, trovate i nomi delle persone formate in MDR. Lasciate stare tutte le persone che dicono Ah, io ho studiato l'MDR, me ne sono inventato io uno, perché l'MDR ha decenni e decenni di ricerche molto serie. Chi ti dice me la sono inventata io, non mi fiderei così tanto. Inoltre teniamo sempre in considerazione il fatto che è una persona ad utilizzarlo e ci sono persone più portate e meno portate per queste cose. Al di là di questo, è una tecnica che funziona molto bene. Le persone tendono a colpevolizzare le persone che soffrono di qualche disturbo psicologico. Allora, innanzitutto è una generalizzazione la tua domanda, nel senso che non tutte le persone colpevolizzano le persone che stanno male. E il punto è proprio qua, che stanno male. Cioè, se tu hai l'empatia giusta, se sai di che cosa stai parlando, se sai che l'ansia non è, o un disturbo d'ansia scusatemi, non è il semplice, o aiuto mi preoccupo tanto, oppure se sai che la depressione non è il semplice, o aiuto sono un po' triste, ecco, se conosci queste cose, o perché le hai studiate, o perché le hai avute accanto a qualche tuo parente, oppure perché tu stesso ci sei passato, ecco allora che difficilmente li colpevolizzerai. Allo stesso tempo qua c'è un piccolo paradosso. Il paradosso arriva dal fatto che chi è riuscito a superare queste cose attraverso un percorso, le ha conosciute, eccetera, può arrivare addirittura ad avere un effetto contrario. Cioè, nel senso, lascia che mi spieghi meglio, è complicatissimo, mi sono infilato in un ginepraio. La faccenda è complicatissima, te lo dico sul ponte Sant'Agostino di Padova, che magari Sant'Agostino aiutami a dirimere questa, a parte gli scherzi. Ora, qual è la faccenda? Dal fatto che se tu conosci molto bene queste cose, tendi a desensibilizzarti. Cioè, se tu sei un operatore sanitario che lavora con i disturbi mentali, se sei un mio collega, se sei uno psichiatra, tendi a volte a vedere la sofferenza, e lo so che sembra pardossale, ma è un po' così, è causato dal fatto che soffriamo noi stessi, quando non siamo molto preparati, perché la sofferenza psicologica, a differenza delle altre sofferenze, ce la tiriamo addosso ad un qualche livello. Ebbene, quando arriviamo a quel punto lì di desensibilizzazione, possiamo diventare cattivi anche noi esperti del settore, cattivi, tra virgolette, accusare anche noi esperti del settore. E' un po' più complesso di così, ma spero di essermi spiegata. Che io mi ricordi, non ho fatto alcuna puntata sull'introversione, ho fatto delle puntate sulla timidezza, se scrivi timidezza su Psynel la trovi. Qualche anno fa avevo collaborato con un ragazzo molto bravo, Stefano Mini, che aveva fatto proprio un infoprodotto, un corso online, dedicato a questo. E avevo scritto un'intera introduzione molto bella, dedicata al potere dell'introversione, per parafrasare un titolo molto famoso. Perché temi di perdere su qualcuno anche se non vuoi investirci? E' legato a tanti motivi. Il primo motivo può essere il tuo stile di attaccamento. Cioè, quando ti attacchi ad una persona, fai poi fatica a gestirla. In altre parole, non ti sai attaccare correttamente. Vai su Google e scrivi stile di attaccamento. O anche su Psynel, ne abbiamo parlato tante volte. Abbiamo fatto un video, mi sembra lo trovi su YouTube. Un altro motivo è legato a quella che si chiama Lost, la paura della perdita. Cioè, il timore di perdere qualcosa. Kahneman ha vinto praticamente il premio, Daniel Kahneman, nel 2002 mi sembra, ha vinto il premio Nobel per aver dimostrato che noi facciamo delle scelte irrazionali, anche in campo economico. E la sua prima euristica di pensiero, o famoso come bias oggi, è proprio la paura della perdita. Tendiamo a fare scelte irrazionali quando temiamo di perdere qualcosa. A volte è ovvio che è molto più complesso di così e dipende dalle tue esperienze di vita. Ragazzi, adesso vado, che sono arrivato in centro per il pranzo, a meno che qua non scoppi il putiferio. Ci vediamo dopo, continuo a rispondere a vostre domande, che oggi sono complicatissime. Ma vi ringrazio. Ragazzi, dall'estate all'inverno. Allora, ragazzi, partiamo dal presupposto che il perfezionismo ha varie cause, per cui non esiste una ricetta unica, come in tutte le cose. Però vi do due suggerimenti. Bisogna disarciunare la paura di sbagliare e la paura dell'inconcluso. Scusate il dito, che sembra un dito brutto, ma sto tenendo l'ombrello. Quindi, allora, per superare la paura di sbagliare, dobbiamo fare piccoli errori volontari. Vieni su Psymel e scrivi paura di sbagliare. C'è un esercizio. Piccoli errori volontari quotidiani. Quindi, tutti i giorni vai al bar, rovesci la tazzina di caffè, hai paura di inciampare per strada? Inciampa davanti alle persone. Hai paura di apparire vestito male? Vesti di male? Vai un giro in centro. So che sembrano robe assurde, ma provale. Se invece hai paura di non concludere le cose, devi lasciare sempre uno spazzetto inconcluso. In altre parole, non so, vuoi mettere a posto tutta la casa? Lascia un angolo della casa inconcluso. Lo lasci lì apposta. Ci soffri, ci stai male, significa che ne hai bisogno. Quindi, due strade, piccoli errori volontari, lasciare una parte inconchiusa. Mi aiuto a spiegarti l'identificazione proiettiva con questa pioggia, mentre devo schivare pozzanghere e macchine che mi stanno bagnando. È praticamente impossibile. Però, posso provare a dirti due cose sull'identificazione proiettiva. Innanzitutto, identificazione proiettiva è praticamente il transfert e il controtransfert di una volta. In altre parole, i psicoanalisti delle relazioni oggettuali, che sono quelli che prendono spunto dalla Klein e quindi dagli allievi di Freud, successivi a Freud, smettono di parlare, di utilizzare il termine transfert e controtransfert ed utilizzano il termine proiezione, identificazione proiettiva. Per farti un esempio, potrei dirti questo. Diciamo che c'è, c'è una, è come, per fare un esempio, sarebbe questo. Io vengo in studio da te, tu sei la mia psicanalista, o la mia psicoterapeuta, e io sono tremendamente arrabbiato con mio padre e te lo dico che sono arrabbiato con mio padre. Però tu non hai alcuno scherzo con tuo padre e alla fine ti ritrovi ad essere arrabbiata anche tu nei confronti di tuo padre. In altre parole, ho attivato dentro di te, questa è la, ovviamente questa è la teoria ragazzi, non è la verità, ho attivato dentro di te quelle parti simili alle mie, ma differenti. Qua è più complesso, ti consiglio di andare su Google e cercare identificazione proiettiva, che lo spiega molto meglio uno psicanalista. Perché c'è una differenza, non è un far risuonare dentro di te ciò che ho io, ma è addirittura un creare qualcosa che tu non hai attraverso la mia narrazione. Ora, mettendo da parte un attimo tutta la teoria psicodinamica, psicoanalitica che sta dietro l'identificazione proiettiva, possiamo provare ad immaginarla come una specie di profezia che si autorealizza all'interno della terapia, dove io paziente, magari inizio a trattarti male, come tratterai sempre nel mio esempio mio padre, e ti dico, non so, che sei prepotente come mio padre. E a furia di dirtelo, a furia di trattarti come prepotente, diventi prepotente. confermando la mia profezia. E in talunni casi, attivando dentro di te, potremmo dire, degli stati interiori di prepotenza che non conoscevi. E pertanto, l'analisi di tale identificazione proiettiva, successivamente, magari con il supervisore, o da solo a casa, quando guardi il caso clinico, può diventare di profondo aiuto nella terapia. cosa penso dei neuropsicologi? In realtà dovrei dirvi cosa penso della neuropsicologia. Tutto il bene possibile, perché pochi sanno che la neuropsicologia, o la psicobiologia, in realtà è la mamma delle famose neuroscienze, così sulla bocca di tutti. Ormai non si può più scrivere un articolo che riguardi la psicologia, o il comportamento umano, senza parlare di cervello e di neuroscienze. E queste neuroscienze nascono dalla neuropsicologia, per cui tutto il bene possibile. Ovviamente stiamo attenti, perché il neuropsicologo è un psicologo, che ha scelto di fare un indirizzo dove ha studiato maggiormente gli aspetti del cervello, ma sempre uno psicologo resta. È normale che durante la meditazione ci siano dei giorni dove ci distraiamo di più, pur meditando da sei mesi? Allora, il presupposto è che sei mesi di meditazione sono pochi, pochissimi. Sappiatelo, non spaventatevi. È così. Se vi dicessi che suono il piano da sei mesi, il pianoforte, cosa mi diresti? Che suono la chitarra da sei mesi, o che vado a scuola da sei mesi, o che studio la psicologia da sei mesi, che cosa penseresti? È tanto poco. Ecco, lo stesso metro di valutazione avevo usato per la meditazione. Sei mesi sono pochi. E comunque, anche io, dopo anni, dopo un decennio di meditazione, ho dei giorni dove mi distrago di più e dei giorni dove mi distrago di meno. E non è così semplice capire il perché. Dovrei entrare nella tua testa e cercare di capirlo. Cosa è impossibile? Lo sai bene se hai ascoltato la puntata di Psynel di oggi, la 291, dedicata alla lettura nel pensiero. Sì, purtroppo piove troppo a Padova e il cellulare diventa scivoloso, non riesco a tenerlo in mano, eccetera. Ho risposto alla metà delle domande a cui di solito rispondo. Non vi preoccupate, proverò a recuperare in un qualche modo, magari rispondendo nel pomeriggio, magari facendo una diretta, eccetera. Sto per mettere un esercizio incredibile qua adesso nel feed. Metterò un esercizio di autosuggestione, vorrei che lo faceste tutti. A parte questo, chi tu stia guardando questo video adesso o più tardi, magari poi riuscirai a ritrovare questo esercizio. A parte questo, proverò a rispondere alle tue domande anche nella passeggiata di mercoledì prossimo o eventualmente nella live di giovedì. Per cui perdonatemi, ma sono davvero inzaccherato, pieno di acqua. Devo tornare a casa, altrimenti mai più passeggiare.